Signori, questa sera, Ang Lee, quattro Oscar, vita di P. C'è altro da aggiungere? Buona serata. Ho appena finito di vedere il film, che mi ha emozionato un sacco. Ho trovato la fotografia fantastica, c'erano veramente delle scene in cui rimanevi a bocca aperta. Il film di stasera mi è piaciuto, credo che metta in scena il cinema stesso e così il confine tra realtà e immaginazione. La vita reale è davvero incredibile. È un ottimo festival, molto divertente, una scelta molto intelligente dei film in programma. Spero che venga di nuovo in questa città che ne ha del vero bisogno. Spero che venga di nuovo in questa città che ne ha del vero bisogno. Spero che venga di nuovo in questa città che ne ha del vero bisogno.